Allora ragazzi, dobbiamo fare un gioco, benvenuti vicciotti alla festa di internet. Io sono il padrino, minghia! Ok, grazie, ma... Non è alto. Cosa? Non è alto, ok? MINGHIA, sono il padrino! Let's ve la modifica, bello! Grazie, scato. E com'è che si fa il padrino? Devo farvi un'offerta che non potete rifiutare. Let's ve la modifica, bello! Devo farvi un'offerta che non potreste rifiutare. Va bene. Let's ve la modifica, bello! Grazie, Lavez! Devo farvi un'offerta, giusto? Sì, ma lei... Devo farvi un'offerta! Ma ti hai conto che non ti ho mai visto con altri pantaloni? Ma chi ti ha vestito? Bocelli? Me ne vado. Chiudo, grazie Claudio. Mi devo sbottonare quando salgo? Oh! No! Sbottonato da seduto, abbottonato da in piedi. Vedi? Così? Sì, salve! Volevo parlare del mess! Posso dire che sembro più un invitato a un matrimonio? O una prima comunione? Sai chi? Assomigli? A quello di Mafia Wars. Aspettate, aspettate! Ma sentite anche voi questa voce! Sentite anche voi questa voce! E potete scegliere fino a 11 civiltà storiche diverse. Io, ovviamente, ho scelto Roma. E questo... No, 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 no!